Conte, non sentiamo, caricato cautela e riservatezza nell'operato. Oggi i responsabili politici viene chiesto di rimanere esclusivamente concentrati sul perseguimento del bene comune, di rimanere esclusivamente concentrati sui problemi che impediscono ai cittadini di avere una qualità di vita migliore e alle imprese di crescere ed espandersi. I cittadini ci chiedono di non distrarci, di non far finta di perseguire interessi generali mentre invece si coltivano interessi particolari. Con Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti, con le altre forze politiche che hanno espresso il proprio sostegno al governo abbiamo oggi una grande opportunità, migliorare l'Italia, fare il bene del Paese. Abbiamo l'occasione per una nuova stagione riformatrice. Siamo in una fase cruciale. Se la affrontiamo con consapevolezza e determinazione potremo disegnare una società diversa, migliore, dove il mercato del lavoro, i rapporti sociali, culturali, l'intero sistema economico ci verranno invidiati in tutto il mondo. Abbiamo grandi e buone idee da realizzare per questo Paese. Nelle consultazioni con le varie forze politiche che ho svolto in questi giorni ho registrato una consonanza tra Movimento 5 Stelle, PD e altre forze di centro-sinistra sugli obiettivi da raggiungere, sulla volontà di fare bene, a partire da una manovra economica che avrà al centro le ragioni del lavoro, dello sviluppo sociale, con obiettivi chiari. Stop all'aumento dell'IVA, salario minimo orario, taglio del cuneo fiscale, maggiore potere di acquisto per i lavoratori, una pubblica amministrazione più trasparente, più efficiente, sostegno alle famiglie, incentivazione delle nascite, sostegno alle persone con disabilità, interventi per l'emergenza abitativa. Dovremmo realizzare anche una seria riforma fiscale che porti a ridurre le tasse e a contrastare più efficacemente l'evasione. Vogliamo mettere al centro della nostra azione la protezione dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile, una crescita solida, il rispetto delle istituzioni, delle legalità, una giustizia più efficiente. Vogliamo dar vita ad un progetto per l'Italia, un'Italia che a testa alta sta tornando a essere il protagonista nel mondo. L'ho già detto e voglio ricordarlo. In Europa saremo in prima fila per contribuire ad adeguare il patto di stabilità e il patto di crescita al nuovo ciclo economico. In Europa non sono mai andato con tono dimesso. Avvieremo un dialogo franco ma critico e deciso per superare le politiche di austerità e modificare le regole vigenti flettendole verso una crescita duratura verso uno sviluppo sostenibile. Dobbiamo riprendere, dobbiamo sviluppare i negoziati dell'Unione Europea per superare le convenzioni di Zublino, perché si affermi una gestione finalmente europea del problema dell'immigrazione, continuando a contrastare i traffici illegali e l'immigrazione clandestina. Bisogna proseguire nella lotta contro la corruzione, per rafforzare le azioni di contrasto contro il malaffare, contro le tante mafie. E poi dovremo lavorare sul fronte della modernizzazione, del miglioramento nei campi dell'istruzione, della cultura, della salute, dei trasporti, per rendere ancora più competitive le nostre imprese. E dare continuità al nostro comune impegno sul fronte della connettività, per garantire a tutti l'accesso universale a Internet e affermare la cittadinanza digitale. Dobbiamo continuare nell'azione di eliminazione dei privilegi, perché chi è chiamato a svolgere una funzione pubblica deve farlo con discipline e onore, senza indebiti vantaggi. Senza dimenticarci del progetto costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari, che necessita di un ulteriore passaggio in Parlamento. Per fare questo serve però un governo forte, un governo stabile. Io sarò il primo responsabile di questa nuova esperienza di governo. Sto lavorando in queste ore per essere affiancato da persone che abbiano elevata competenza, buona capacità organizzativa, un'adeguata qualificazione politica. Questa giusta amalgama sarà importante per avere una squadra di governo autorevole ed efficiente. Sia ben chiaro, non mi sfugono le ragioni di perplessità e i dubbi che possono albergare nei sostenitori dell'una e dell'altra forza di questa nuova maggioranza. Penso agli elettori del 5 Stelle, che sono chiamati al voto sulla piattaforma Russo. A voi ricordo che il Movimento ha sempre detto, in modo molto chiaro, prima delle elezioni, che se non avesse avuto la maggioranza assoluta in Parlamento avrebbe realizzato il programma con le forze disponibili a farlo. Il Movimento ha sempre posto in primo piano, in modo molto trasparente, il programma per cambiare il Paese, senza farne una questione di schieramenti politici. A voi dico di non tenere in un cassetto queste idee, questi sogni. Questo è il momento di tirarli fuori. Oggi più che mai ne abbiamo bisogno per disegnare e realizzare il Paese che vogliamo. Penso anche al PD, ai suoi elettori e alle altre forze politiche che sono in Parlamento e che aderiranno a questo progetto. Avete? Abbiamo? Abbiamo davanti una sfida non da poco e capisco bene le vostre perplessità, ma questa è un'occasione unica per dimostrare che si può riformare davvero incisivamente questo Paese e fare cose straordinarie se il vero e autentico obiettivo che si persegue è il bene degli italiani. Per fare questo non servono i supereroi che tanto piacciono a mio figlio. Basta essere persone normali, ma responsabili e determinate. Persone che chiamano davvero il proprio Paese sopra ogni cosa. Grazie. Queste le parole di Giuseppe